Al termine della partita qui al Palagrotte, BCC-Nest Castellanagrotte contro Mondovì, commento a caldo su questa netta sconfitta di 3-0? Abbiamo avuto l'occasione nel primo set di fare qualcosa in più, non l'abbiamo sfruttata, tra l'altro regalandola in una maniera che ci ha tagliato le gambe anche sull'inizio del secondo e del terzo, noi in questo momento siamo fragili, quando ci calano le certezze non riusciamo a trovare la forza in altre cose, quindi è una cosa di bravi a procurarci delle occasioni nel primo set, non avendolo chiuso, troppo rinunciatagli il secondo e il terzo. Noi ci abbiamo sempre creduto, non è una sconfitta contro i primi in classifica che ci cambia l'opinione, poi sicuramente si poteva perdere più dignitosamente, però come ci abbiamo creduto la prima giornata ci crediamo ancora adesso. Per la prossima partita in casa invece come crede di preparare il suo team? Adesso stiamo facendo un grosso lavoro su di noi, perché i problemi ce li abbiamo nei nostri 81 metri quadri, speriamo di riuscire a recuperare un po' di energie e a trovare una quadra quando le cose vanno male prima di domenica. Grazie mister, buongiorno.